Monopoli sta sfruttando la legge regionale sulla partecipazione, che è una delle cose più di sinistra che siano mai avvenute nella regione Puglia e quindi ci auguriamo che questa città possa utilizzare la nostra legge per consentire dal basso a tutti i cittadini di aiutare l'amministrazione a prendere la migliore delle decisioni possibili. Fa molto piacere che l'amministrazione Monopoli abbia deciso di procedere in questo modo per utilizzare un volume pubblico che viene dismesso dall'uso precedente, un deposito di carburanti di natura militare e adesso ovviamente questa è una grande occasione per una città in tumultuosa evoluzione che evidentemente può utilizzare questo volume per completare la sua attrattività. Questa è già una città dove tutti vorrebbero abitare, tutti vorrebbero venire in vacanza e quindi secondo me questa occasione quando i monopolitani verranno qui a pensare con l'amministrazione perché il sindaco apre questo luogo, lo mostra e chiede ai cittadini che volete fare? Se fosse sempre così sarebbe tutto un altro mondo.